Mauro Toro, che lui ci parlerà di noleggio di barche, della sua Sunrise Charter. Benvenuto Mauro. Grazie. Noi siamo una società di intermediazione marittima, quindi ci occupiamo proprio appunto di, come dire, di intermediare tra l'armatore, colui che è proprietario di un'imbarcazione e il cliente che cerca un'imbarcazione per fare magari una settimana di vacanza o due settimane di vacanza durante l'estate. Ecco, questo è quello che facciamo molto semplice. Come nasce però l'idea di aprire questo tipo di attività? Ma come la maggior parte delle persone che fanno un'attività relativa al mare, è chiaro, da una passione che c'è fin da piccolo naturalmente. Io ho cominciato ad andare in barca quando avevo dieci anni e non ho più smesso, ne ho cinquanta. Calcola che noi siamo una delle poche società di charter in Italia che hanno il titolo appunto di mediatore marittimo, cosa che chiaramente è una garanzia di professionalità che effettivamente non tutti magari riescono a dare. Ma nello specifico, che tipo di barche andiamo a trovare nella tua possibilità di noleggio? Ma guarda, noi offriamo ai nostri clienti qualsiasi tipo di imbarcazione, dalla più piccola alla più grande e di qualsiasi tipo, barche a vela, yacht a motore, barche più o meno grandi, anche super yacht. Diciamo che nel nostro catalogo abbiamo di tutto. Poi se gli ascoltatori vorranno vedere la nostra pagina internet o la pagina Facebook, si renderanno conto dell'offerta che noi proponiamo. Ma soprattutto io direi di far conoscere ai nostri ascoltatori quali sono comunque le zone in cui tu operi. Guarda, noi veramente per la tipologia di lavoro che facciamo, appunto quella di mediazione, possiamo offrire imbarcazioni veramente in tutto il mondo. Noi collaboriamo con agenzie estremamente professionali, veramente in tutte le parti del mondo e quindi qualsiasi richiesta riusciamo a soddisfarla. E' chiaro, prevalentemente lavoriamo nella zona qui del Mediterraneo, in particolare del terreno. Però ecco, se uno cerca un'imbarcazione anche in Polinesia, gliela troviamo ecco. Non soltanto comunque noleggiate queste barche solo per, diciamo, per vacanze o per piacere personale, ma anche per l'organizzazione di eventi. Quindi comunque è un'ottima possibilità di location per chi volesse organizzare un evento un po' particolare. Sì, ma anche per le aziende che appunto hanno intenzione magari di promuovere qualcosa, degli eventi o fare semplice team building. Ecco, noi l'abbiamo già fatto, lo organizziamo, quindi siamo a disposizione anche per questo. Bello, questo è molto bello perché magari si va al di là delle classiche di More, cioè date qualcosa di alternativo, di classe, veramente chic, ci piace. Bene, allora, a questo punto, caro Mauro, direi di dare tutti quanti i tuoi contatti. Io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che è qui con noi, Mauro Toro, Noleggio Barkens Arrise Charter. È possibile contattarti al 335-5388-436. Voi vi trovate in zona Fiumicino, ma soprattutto è possibile vedere tutti quanti, magari le vostre possibilità di noleggio e anche tutte le promozioni, perché mi dicevi che siete comunque una società che organizza spesso molto promozioni per i propri clienti, sulla pagina Facebook, Sunrise Charter, che invito tutti i nostri ascoltatori a mettere un bel mi piace e poi è possibile contattarti anche su info, chiocciola, sunrise-charter.com. A questo punto io direi di salutare tutti quanti e di invitarli il perché dovrebbero venire da te. Beh, prima di tutto, se avete passione per il mare, non potete non venire in barca, non potete passare una settimana di vacanza in barca, veramente a contatto col mare. Ma vi serve per caso qualcuno che testa le barche? Perché io ci sono, mi propongo. Gloria, ora ci faccio un pensierino. Va bene, grazie ancora a Mauro Toro, noleggio barche, Sunrise Charter, in bocca al lupo e soprattutto grazie per averci fatto scoprire questa fantastica attività. A voi, grazie a tutti, arrivederci.